A volte ti giuro che non capisco se sono scene del film o se sono scene del gioco. Io per evitare se ho il dubbio riduco la schermata, non per cose, perché magari poi è così questa è la scena del film. Come dicevo, poi magari in realtà non succede nulla, però sai, meglio evitare i problemi di copyright. Qua è la scena in cui ritrovano pesce, che sta fluttuando in aria, ora sta girando su se stesso per aprire il portale. Non vorrei dire una cavolata, ma se non ricordo male quando è uscito il film, io l'ho visto al cinema. Però veramente è passato talmente tanto tempo che mi ricordo molto poco del film in sé. Cioè mi ricordo la base più o meno e il gioco adesso mi sta un attimo anche aiutando a ricordare effettivamente quello che è successo e la storia in sé. Ma non mi ricordo veramente nulla del film vero e proprio. Cioè rivedendo adesso il gioco, rigiocando e vedendo adesso le scene qualcosa mi ricordo. Ed eccolo lì, eccola qui, la navicella aliena. Oh no, i tentacoli, gli alieni esistono. Chicken Little l'aveva visto bene, lui sapeva già che gli alieni esistono e hanno una forza telecinetica assurda. È andato, è andato, ho capito. Salutate pesce. Noi invece. Ciao, sono qui nella navicella, mi sono salvato. Trovato pesce. Trovato pesce. Oh, ecco, questa è una scena del gioco. E fin là, non ho dubbi. Oh mamma, siamo fritti. Oh, io devo andare. Cosa sta dicendo? Sono allergico alle radiazioni extraterrestri. Che ha detto? Non lo so, non capisco. Non capisco. Eseplare, pollo piccolo. No, è una sequenza di guida in cui guidiamo la navicella. No, ti prego. Simulatore spaziale. Supera il test di volo. Spingi. Spara missile. Ruota sinistra, ruota destra. Ma spingi intende... Eh sì, bolo sinergia. Allora, odio il fatto che si è decentrato. O meglio, o meglio. E se è come penso... Bonus scudo, ovviamente. Se è come penso, lo schermo, ovviamente, il gioco, anzi, era in quattro terzi. Quindi quadrato. Quindi questa forma qui non è un modello tridimensionale che può essere allargato con il widescreen. Quel quadrato rimane quadrato perché, ovviamente, il gioco era stato pensato per essere quadrato e non rettangolare. Va bene. Non vedo. Io non so neanche cosa stiamo facendo. Oddio, io adesso lo ammazzo, sto maiale. Ma io ho quanti missili? Ho 30 missili? Boh, va bene. Io intanto... Aia! Eh sì, ho 30 missili. Eh, ma... Guarda, sono bravissimo. Non so neanche cosa sto facendo. Tutto il mio obiettivo era andare a prendere solo le figurine. Posso guardare? Oh, obiettivo raggiunto. Figurine ottenute. Io sono contento... ...della mia vittoria. Mi chiedo più che altro se ci sia una... ...una boss fight adesso, tipo... Ah, ma questo intende con ruota. Cioè, mi piego. Io pensavo che con ruota... ...mi facesse proprio tipo manovra evasiva. E la X non è spingi, ma è... ...il boost, insomma. Oh, se questo è il livello, io sono contento. Oh, se questo è il livello. No... ... Grazie a tutti.